Mancano pochissime settimane all'apertura dell'edizione 2023 di Cibustec. Dopo quindi un fermo di circa 4 anni, finalmente Cibustec ritorna alla ribalta. Quali sono, Fabio, le novità che ci potremo aspettare a questa edizione? Sarà un'altra straordinaria edizione di Cibustec con moltissime novità. Abbiamo consolidato il posizionamento di Cibustec quale piattaforma italiana di riferimento per le tecnologie per il settore carne e proteine alternative, con i più importanti costruttori italiani ed esteri di settore. Abbiamo poi proseguito il nostro percorso di sviluppo del settore delle tecnologie per la produzione e l'imbottigliamento di bevande. Anche in questo caso offriremo gran qualità, grande tecnologia e grande innovazione. E poi la nostra non nascosta passione per la sicurezza alimentare ci ha portato ad offrire un'area espositiva e un'area di contenuti molto importante con trend proprio legati al futuro, delle tecnologie, delle soluzioni legate proprio all'analisi alimentare e dei laboratori. Quindi una bella piattaforma di tecnologie, innovazioni, start-up, non dimentichiamole, per consentire ai nostri visitatori di avere davvero un occhio sull'attuale offerta ma sulla fabbrica del futuro. Tantissima tecnologia e tantissima innovazione dedicata all'industria alimentare delle bevande in un parterre di circa 1.100-1.200 espositori spalmati in un'area espositiva di circa 120.000 m2. Parliamo quindi sicuramente di Made in Italy ma non solo, vero Fabio? Assolutamente. Cibustec promuove da sempre il Made in Italy, infatti i nostri espositori circa il 70% rappresentano il meglio che la nostra industria può offrire. Ma abbiamo un numero sempre più crescente di realtà estere che scelgono Cibustec per promuovere le proprie soluzioni e le proprie tecnologie. Abbiamo circa 400 espositori da una trentina di paesi, dai principali hub con competenze e know-how nella produzione di soluzioni e tecnologie per il food and beverage. Questo è un processo che va avanti da anni dall'avvio della collaborazione con Anunga Foodtech e tutto il portafoglio di manifestazioni del gruppo Colmes a cui Cibustec fa parte. Sono interessanti, si tratta di numeri ma esprimono quanto questo percorso sia poi concretizzato in una presenza. Registriamo un po' sia sul lato espositore che sul lato visitatori una crescita del 25-30%. È interessante vedere quanto gli espositori internazionali dall'avvio della collaborazione siano cresciuti del 60%. Quindi far parte di questo gruppo internazionale ha consentito a Cibustec di crescere dal punto di vista internazionale, di offrire grandi tecnologie e consentire ai nostri visitatori a casa, quindi nel proprio paese, in Italia, di vedere davvero il meglio delle tecnologie disponibili a livello internazionale. Anche per quanto riguarda il discorso infatti di incoming, grazie anche alla vostra collaborazione ma non solo con Anunga Foodtech, sicuramente avete dato modo ai prossimi espositori di avere comunque un incoming di buyers da tutto il mondo. Assolutamente. Diciamo che hai 40.000 visitatori attesi con appunto una provenienza italiana molto forte ma perché la nostra industria alimentare è molto forte con numeri interessanti e visita Cibustec abitualmente. Il nostro Top Bias Program organizzato in collaborazione con ICE Agenzia e con il gruppo Colmesse ci porterà nuovamente ad avere a Parma circa 3.000 operatori esteri dell'industria alimentare, quindi i decisori degli investimenti, da un centinaio di paesi. Su alcune aree siamo già molto presenti da tempo, in Sud America, gli Stati Uniti, l'Africa del Nord. Abbiamo potenziato con grande soddisfazione, proprio in termini di registrazione e di presenze, l'area medio orientale, il resto del continente africano dove avremo delle straordinarie sorprese per i nostri espositori e la parte dell'Asia, dei principali hub di produzione alimentare dell'Asia. Che saranno a Cibustec a vedere il meglio dell'offerta tecnologica? Tantissima tecnologia, tantissime soluzioni innovative, ma anche un grandissimo numero di eventi. Assolutamente, offriremo ai nostri visitatori circa una trentina di workshop e conferenze che andranno a trattare tutti i più importanti temi di tendenza per l'industria alimentare, approfondimenti sui settori, sicurezza alimentare, packaging, le evoluzioni sulle tecniche di produzione, quindi un palcoscenico dove si alterneranno i più importanti speaker a livello nazionale e internazionale per i grandi temi dell'industria alimentare. E in più continuiamo il nostro progetto decennale delle unità dimostrative, quindi porteremo nuovamente i nostri visitatori nella fabbrica del futuro con tre linee dimostrative in funzione, altamente automatizzate, che ci racconteranno dei prodotti interessanti, dedicate ai prodotti da forno, dedicato al settore caseario e a una tecnica di confezionamento interessante con applicazione in diversi settori dell'industria alimentare, quindi un viaggio che andrà a toccare tutte le richieste che i nostri visitatori potranno avere, quindi un grande spettacolo per ottobre 2023. Ottimo, molto interessante, sicuramente un evento da non perdere per quanto riguarda l'industria alimentare. Ringrazio quindi Fabio Bettio e rinnovo l'appuntamento a Cibustec per il 24 di ottobre a Parma. Vi ricordo anche che è possibile registrarsi all'evento evitando quindi le code attraverso il link nel primo commento sotto l'intervista.